Si è chiusa con l'accordo firmato presso l'Agenzia regionale toscana per l'impiego la procedura di licenziamento collettivo aperta dall'azienda di moda tedesca Ugo Boss per cessazione delle attività dello stabilimento di Scandicci, 22 i dipendenti interessati. Di questi, tre saranno ricollocati in Svizzera, allo stabilimento Ugo Boss Ticino, con un incentivo all'esodo e ulteriori misure ad hoc come consulenza fiscale, bonus, trasloco in franchi svizzeri, alloggio pagato dall'azienda per sei mesi. Per gli altri 19 dipendenti ci saranno uscite incentivate in caso di assunzione a tempo pieno con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato entro sei mesi. La Ugo Boss Scarpi Accessori Italia inoltre si impegnerà a versare a favore del nuovo datore di lavoro una dote di 8.000 euro. Il tavolo per l'avvertenza, commenta Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro e le crisi aziendali della regione, ha ottenuto risultati inizialmente insperati grazie all'impegno congiunto di istituzioni e sindacato. L'azienda ha dovuto ammettere che la riorganizzazione dipende esclusivamente da ragioni interne. Si tratta quindi di una scelta che non mette in discussione la centralità di Scandicci e della Toscana nella moda internazionale né la conclamata struttura del distretto di Scandicci che è un punto di riferimento unico certificato dalla presenza di tutti i maggiori brand di livello mondiale.